Devo veramente scappare che ho un appuntamento, sono già in ritardo, aggiungo una cosa io però perché se ne sta parlando in queste ore. Ieri abbiamo fatto una conferenza stampa per sollevare un tema che tocca 5 milioni di famiglie che rischiano di vedersi aumentate le bollette. Noi diciamo no alla tassa Meloni sulle bollette. Il governo sta cercando di non prorogare il mercato tutelato, bene che ci siano delle voci all'interno del governo e della maggioranza che chiedono una proroga, però se fanno sul serio votino gli emendamenti del Partito Democratico presentati nella nostra manovra alternativa che chiedono esattamente la proroga del regime di mercato tutelato a tutela di quei 5 milioni di famiglie che rischiano di vedersi rincarate ulteriormente le bollette mentre già combattono ogni giorno contro l'inflazione e il caro della vita. Due parole su Expo 30, Roma perde l'Expo, due parole anche su questo segretario. Segretario, Roma perde l'Expo 2030, è solo colpa di me. Solo quello che gli interessa, segretario, com'è?